Eccoli, subito tutti a rete, qualche problema per il numero 3, Linfa d'Alfa, adesso arriva anche Libiano Lung, in partenza parte in mano Limus in Griff, Liberty Gare con l'esterno Linfa d'Alfa più l'esterno Lucrezia Gio, poi si ritrae Ligabù e Linfa d'Alfa che va a premere su Liberty Gare, all'esterno c'è il numero 5 di Lucrezia Gio con Linfa d'Alfa al comando, Liberty Gare che vuole restare seconda con Lucrezia Gio che adesso insiste a largo, poi dietro c'è Laura Trio in coppia con all'interno Limus in Griff, passa Lucrezia Gio su Linfa d'Alfa, mentre all'esterno c'è Laura Trio, 28 e 1 per i primi 400 di gare, è Lucrezia Gio, Marcello è lì ma batti strada, cavalli che sono sulla curva, adesso arriva Laura Trio che è rimasta scoperta, cerca di guadagnare posizioni con seconda e Linfa, Lucrezia al comando, dalle retrovie muove anche Ligabù e ok, 600 in 45 e 2 ma in decelerazione con Laura Trio che non può far altro che rimanere lì ai fianchi di Lucrezia Gio, dalle retrovie si muove anche il numero 2 Liberty Gare che vuole anticipare Ligabù e ok, ma tiene anche un po' sotto Limus in Griff. Cavalli che sono adesso alla penultima curva, si è rimasta sotto Liberty Gare e così Lucrezia Gio passa il primo chilometro in un normale 18,3. Cerca di andare via Marcello Lima, Laura Trio si è ripresa, sembrava avere un po' esaurito lo speed, comunque al comando, c'è sempre Lucrezia che conduce bene bene, seconda Linfa d'Alfa, poi all'esterno si è liberata adesso Limus in Griff, Limus in Griff che va in mezzo alla pista ma nel frattempo Lucrezia Gio se ne sta andando, Laura Trio che allarga dallo spazio a Liberty Gare con Lucrezia Gio che è in costante spunto, sposta anche il numero 3, Linfa d'Alfa che cerca di andare su Lucrezia Gio, sbaglia Liberty Gare con Linfa d'Alfa che va su Lucrezia Gio, Linfa d'Alfa che batte sul palo. Lucrezia Gio per il terzo posto dovrebbe essere Limus in Griff, vedete, retta d'arrivo con il numero 3 di Linfa d'Alfa, Lucio Curato che fa tutto bene, sposta al momento giusto e va a vincere su Lucrezia Gio per il terzo posto, all'esterno il numero 1 Limus in Griff su Laura Trio, 1-17-2, la vittoria per Lucio Curato.